3, 2, 1, eeeh! Festa di San Martino, festa speciale, siamo nello studio, il Giardino delle Maglie con tanti amici, un applauso ragazzi! Alberto Cova, tu sei la storia, grazie di cuore perché questa soddisfazione l'ho cercata da anni e quando io ti ho mandato quella foto ai prati della spessa di Clusone per il cross country tu hai detto come faccio a dirti di no? Eh ma infatti tutti quelli che ti conoscono che dicono esattamente la stessa cosa no? Come facciamo a dire di no a Beppe? Perché sei una persona fantastica e poi perché vivi diciamo questo mondo dello sport veramente con il cuore, la serenità del modo di pensare quindi è bello anche condividere con te queste emozioni e poi hai inventato l'unico fans club Alberto Cova che esiste in Italia e l'hai fatto qui a Sovere e quindi come non poter riconoscere questa fantastica idea? Io dico che la corsa è un momento fantastico, bello, naturale, che però richiede una scelta cioè o ti piace farla o non ti piace farla, però tutti quelli che la fanno dicono che libera la testa allora per chi non l'ha ancora provata basta provare per vedere se è vero Oggi tantissima gente che ti abbraccia e dicono avere a tu per tu Alberto Cova non è semplice perché quando era in gara Alberto Cova avvicinarlo non era così semplice e oggi averti qui è uno spettacolo Beh ma sai nel momento in cui sei un professionista non è che tu non vuoi essere avvicinato è il contesto in cui vivi che ti diciamo isola un pochino e poi perché comunque le competizioni devono essere vissute in modo particolare e è difficile anche far capire alla gente che la concentrazione vuol dire anche rimanere un pochino da soli G.B. Baronchelli è un'emozione averti qui, è un sogno che avevo da bambino e creare il fans club di G.B. Baronchelli l'unico in Italia non è poco, l'ho fatto con il cuore Beh io ti ringrazio perché appunto è veramente l'unico io la mia attività ormai è cessata da decenni oramai e quindi trovare ancora chi crea una cosa del genere sicuramente è un grande merito e ti ringrazio Beppe, è un grande piacere essere qui quando mi chiami nel limite del possibile io ci sono poi oggi in particolare essere accomunato insieme al grande Alberto Cova è sicuramente ancora più importante per me quindi ti ringrazio per avermi e per coinvolgermi sempre nelle tue iniziative Grazie a tutti Grazie a tutti